Salve a tutti ragazzuoli con queste luci veramente dubbi e con una mamma, ciao mamma come stai? Non mi riprendere, non mi riprendere che lei dice non sono truccata, non mi pare il caso Comunque ragazzi benvenuti, bentrovati, bentutto in questo vlog, vi ti racconto di un evento, di un reaction, di un tuzzi acqua pelata Insomma di tutto, di Inter-Roma perché stiamo andando al The Random e allora io ti chiedo che ti aspetti dalla partita di stasera della Roma? Non so neanche a giocare Non pensavi manco a giocare No Cioè tu sei la mamma di Federico Marconi che vuole diventare un giornalista e non sa che la Roma gioca Federico Marconi che deve diventare un giornalista con sua madre L'Inter va malissimo per cui vincere la Roma Perché invece a Roma sto periodo sta proprio cavalcando No facciamo un X Comunque ringraziamo i lampioni del raccordo che ci hanno illuminato e allora possiamo andare dentro con The Random Chiudi la un po' così con la mano che fa ride, ma no, non lo schermo Non ci hai preso Ragazzi siamo qui al The Random, c'è una garanzia come diceva gli eventi, buon Rubino Ciao Rubino Io sono arrivato e mi ha chiesto mi fai vedere le donne che ti seguono? Io apro Instagram e c'è sequelf con talone Cioè è una cosa proprio brutta, però vai, vedi le donne che mi seguono Rubino, ma sono più le tue in realtà No è possibile No è sicura sta cosa? Basta che non vai a vedere le 18 45 per cento 45 per cento Guarda l'età, guarda l'età Oh però è l'età 18-24 Aspetta, aspetta, aspetta Fammi vedere, mette a fuoco, non mette a fuoco Aspetta A mette a fuoco 45 donne ragazzi dobbiamo mettare Ammazza così tante, pensavo di meno Perché fai giochetti di bacetti Ma quali i bacetti che ho fatto io carriera Regà abbiamo appena fatto una partita a biliardino, io sono veramente una pippa Rubino confermi? Sì Sono scarsissimo, però ho fatto due bei colle Bucevolo Regà allora di qua si sta un po' riempendo, sta arrivando qualcuno Noi siamo qui con Rubino Rubino, che cosa c'è qui a tavola? La pizza che non mi potrei mangiare io però Però c'è questa pizza buona che è salsiccia, ma andiamosela un po' Grande Pepe Grandissimo Eh capito? La tristezza di un uomo Sono le 20 e 12 Continua la tensione, anzi sai che la tensione Mira mi dicevo che sì Salutiamo Asteroma Matteino Salutiamo tutti quanti E salutiamo Rubino Un bel lupo per la Roma Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Però dobbiamo resistere Dai a Bruno 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 Rissens Portasci il uomo Guardate chi c'è C'è il Bangla C'è il Bangla Un applauso al Bind Sei arrivato quando è entrato Bruno Perez Che ha fatto un progetto a casa Questa pesino Ha fatto anche due gol in campionato pesino Delalu T'è il練 Quindi finisce qui una partita amara col troppo per la Roma che era riuscita a passare in vantaggio col gol di Geragli poi il pareggio di Vecino all'ottantaseiesimo anche noi vi salutiamo comunque grazie per essere stati qui fino alla fine con tante difficoltà e spero provale 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 grazie a tutti per il centro e vabbè ragazzi io sono appena tornato a casa qui c'è Snoopy che già mi sta stuprando Snoopy però anche meno grazie e niente come vedete dal mio volto è abbastanza cupo alla fine la Roma non meritava di vincere ha fatto la sua partita per la prima ora di gioco non creando neanche tantissimo poi nel finale in particolare ripeto proprio nell'ultima mezz'ora l'Inter ci ha tartassato perché secondo me la Roma sbaglia nel momento in cui comincia a chiudersi e ad arretrare troppo in campo quando manca mezz'ora alla fine cioè tu un lavoro del genere non lo puoi fare a mezz'ora dalla fine contro l'Inter ma non lo puoi fare neanche contro il Sassuolo perché poi anche lì ti sei abbassato troppo presto e hai preso il gol breve commento tecnico poi ne parleremo meglio mercoledì o giovedì adesso vediamo perché mercoledì c'è Samp Roma la commentiamo con Roma Crew giovedì c'è la trasmissione chiaramente quindi seguiteci su Roma Crew dalle 18 alle 20 lì parleremo meglio diremo la nostra dal punto di vista tecnico adesso non voglio attaccarvi il pippone alla fine vi dico soltanto che chiaramente quando prendi il gol all'86esimo te rode cioè poi anche ha fatto un tiro in porta e loro ti hanno tartassato tutta la partita ma te rode uguale perché è normale che ormai ti fai anche un po' la bocca della possibile vittoria comunque volevo ringraziare tutti quelli che sono stati con noi fino alla fine nonostante i problemi nonostante il risultato nonostante tutto volevo ringraziare il buon Matteo se non sbaglio nome perché può essere pure su autistico però mi pare che si chiami Matteo insomma non ha fatto questo bel regalo niente l'autismo la dislessia è mezzanotte e mezza ragazzi io vi do la buonanotte che poi non è vero perché voi sto video potete vederlo pure alle 11 di mattina tecnicamente allora vi do il ciao no lui mi lo do perché lui è mio però vi do il ciao e iscrivetevi al mio canale iscrivetevi a Roma Crew se non lo siete già e sono sicuro che molti di voi non lo sono quindi qui sopra nelle scade trovate Roma Crew lasciate like se almeno questo video possa esservi piaciuto soprattutto ditemi la vostra qui sotto nei commenti voi si a questo punto ditemi la vostra sul video ma soprattutto su Inter Roma e niente io vi mando un bacione vado a dormire domani devo andare a scuola ma in qualche modo il video esce ciao bella rega